A Farasabina il capogruppo di maggioranza Simone Frattini, socio al 50% della società Colle Castelluccio, ha mosso un'azione legale contro la stessa amministrazione comunale. La vicenda ha avuto inizio nel 2014 con l'aggiunta Leggio, a causa dell'inclusione di una vasta area della società all'interno di uno dei piani di zona. Nel 2009, con l'aggiunta Mazzeo, il Comune ha occupato più della metà dell'area per i quali nel 2011 si è decisa un'indennità provvisoria di oltre 195.000 euro. La società ha rifiutato la proposta e ha citato in giudizio l'ente per l'ottenimento di un pagamento che sarebbe dovuto essere maggiore di un milione di euro. Nel 2012 è iniziato il procedimento in primo grado in corte d'appello e l'anno successivo la causa è stata rimessa al Collegio, la cui decisione sarà presentata il 17 febbraio 2017. In tutto questo, Frattini ha risposto che si tratta di un contenzioso vecchio, iniziato quando lui ancora non era stato eletto.